Francesca Serviati, portavoce di Generazione Liguria, il progetto finalmente parte. Sì, finalmente con questa sera con l'assemblea siamo partiti anche qua in Liguria. Generazione è un progetto che nasce in Emilia e che negli ultimi anni ha preso campo anche in altre regioni italiane. Da settembre sono entrata a far parte in questo gruppo a livello nazionale, da novembre sono riuscita a entrare nell'esecutivo, quindi ho cominciato a capire come funziona e veramente quali progetti riusciamo effettivamente a concretizzare a livello nazionale e pertanto mi sembrava opportuno portare questo valore aggiunto all'interno del movimento cooperativistico Ligure. Quindi con questa sera abbiamo costituito con l'assemblea il gruppo, io sono la portavoce, abbiamo nominato quali sono i membri dell'esecutivo e dalla prossima settimana finalmente si parte e vedremo di ragionare su quali possano essere le necessità della cooperazione dei giovani cooperatori qua in Liguria e poi cominceremo a lavorare. Da questi primi incontri si può dire che c'è qualcosa che contraddistingue i cooperatori Liguri, i giovani cooperatori Liguri? Secondo me quello che ho potuto vedere questa sera e quello che ho visto a livello nazionale, ma soprattutto questa sera mi è piaciuto molto questa spontaneità, questa voglia di emergere, questa voglia di portare veramente innovazione al movimento.